Siamo la madrina che mi è stata reannunciata prima a spostarsi insieme alle autorità per il taglio del nastro per questa edizione 40 più 1 della festa di San Giovanni. Ecco diamo tempo ai fotografi di immortalare il momento simbolico dell'inaugurazione e viva San Giovanni e viva la festa e viva tutti voi.